La mappa dei Citidoni ad ospitare il deposito nazionale di scorie nucleari è addirittura d'arrivo. I tecnici stanno facendo gli ultimi approfondimenti anche se non è possibile indicare i tempi della pubblicazione. Quanto ha sottolineato oggi a Roma il Ministro dell'Ambiente Gianluca Galletti, parlando del tema a margine di un evento promosso dal Lanci Nazionale. I procedimenti amministrativi vanno chiusi, ha aggiunto il Ministro, ma vanno anche chiusi bene. Non è che ci sia una scadenza, bisogna vedere i tempi della formazione del nuovo Governo, che non dipendono da me, ha detto l'esponente dell'esecutivo Gentiloni. Una posizione più possibilista rispetto a quella che a marzo aveva annunciato il Ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda, che aveva parlato dei tempi più stretti per la pubblicazione della Carta Nazionale delle aree potenzialmente idonee per il deposito nazionale delle scorie radioattive. Una presa di posizione che in Sardegna aveva suscitato la protesta dei movimenti non-nucle e non-scorie contro il Ministro, cui era stata attribuita l'indicazione poi smentita dell'isola come un sito idoneo. È presumibile che il Governo, guidato da Paolo Gentiloni, ormai dimissionario, voglia lasciare l'incombenza dalla decisione finale al prossimo esecutivo. A predisporre la Carta dei siti e la SOGIN, la società pubblica che ha il compito di smantellare le centrali nucleari dismesse, che dovrà indicare le aree donne ad accogliere la struttura nazionale che nessuno vuole, ma che comunque dovrà sorgere per accogliere non solo quello che resta del sogno nucleare italiano, ma anche le sostanze radioattive utilizzate per esempio in campo medico. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!